Taranto Finanza Fondo, direzione Monti. L'evento di economia e finanza più a sud d'Italia, capace di far interagire esperti e risparmiatori in una full immersion dedicata alla scoperta delle strategie di investimento e di risparmio e alla conoscenza dell'evoluzione dei mercati, analizzando scenari e prospettive. Taranto Finanza Fondo Le società hanno la possibilità immediata di poter incrociare la giusta fascia di mercato di riferimento, scoprire nuovi clienti e cogliere fresche opportunità di relazione. Gli spazi infiniti della campagna pugliese, il mare brillante e un centro benessere a 5 stelle rappresentano il valore aggiunto ad un momento che quest'anno viaggia a ritmi ancora più intensi ed elevati, diluendo tempi e spalmando gli eventi per dar modo alle società di ottenere un ritorno importante dalla loro presenza. 29, 30 settembre e 1 ottobre. Tre giorni. Un happening multilivello, capace di coniugare operatività in tempo reale e dimostrazioni personalizzate in ambiente remoto. Punto di contatto fra le molteplici tipologie di investimento. Formazione sulle nuove piattaforme e metodologie e informazione sul futuro della gestione del risparmio. Questo è il Taranto Finanza Forum 2011, che può contare su un'area espositiva estesa e ancora più grande. Desk personalizzati e sale dedicate, anche per momenti e briefing aziendali o con investitori istituzionali. E quale valore aggiunto? Un importante portale completamente ridisegnato in ambiente web 2.0, dove viaggeranno casi aziendali, promo, profili, interviste e streaming per promuovere al meglio le società partecipanti. Quella che sta per partire è un'edizione ancora più ricca e complessa. L'evoluzione è amplificata e la dimostrazione tangibile della crescita rispetto alla prima edizione svolta 6-5 anni fa. Il Taranto Finanza Forum non è una fiera di settore. È l'emblema di come domanda e offerta si incontrano senza filtri. L'aspetto pratico degli investimenti finanziari, spiegati a un target di pubblico interessato e selezionato, con una comunicazione adeguata ai vari livelli per le diverse tipologie di investitori, pubblici o privati. Ad ognuno le sue risposte per cogliere le prospettive del futuro. Grazie. 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 Grazie.